Ho visto esempi di incapsulamento in ogni classe di armi, nessuno era così. È quello che cerca. Questo non lo capisco. Hai detto che parlavi l'Eston? Non è Estone, è al contrario. Che succede? Vai, 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 vai! Non lo capisco. Non lo capisco. No, non darglielo. Ma questo non è Plutoni! È peggio, porca puttana! No, non lo capisco. Scusami. Sta scappando! L'ha lasciata in macchina, vai! Valla indietro, vai, 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 vai! Accelere e accostati! Dai, dai! Più vicino! Vai, vai, vai! Resta così, così! Resta così! Resta così! Grazie a tutti